La geriatria è l'ambito della medicina che si occupa di prolungare quanto più, l'autonomia e il benessere nel periodo della vita in cui si definisce un paziente anziano. Quindi rendere il meno gravi possibili, eventuali disabilità, fisiche e mentali, che sopraggiungono nell'anziano. Il geriatra dopo un'accurata diagnosi sulla base di tutti gli aspetti fisici e psicologici, definisce un piano terapeutico, coinvolgendo a seconda delle necessità altre professioni mediche come fisioterapisti o neurologi. La professione di geriatra è svolta da chi ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e ha svolto il corso di specializzazione in geriatria, con iscrizione all'ordine dei medici dopo superamento dell'esame di stato per l'abilitazione. In generale ad aver necessità di una visita geriatrica sono i pazienti più anziani che hanno superato i 75 anni e che convivono con più problemi di salute. Una delle patologie più comuni che interessano i pazienti più anziani sono l'artrite e il diabete. È possibile fare una prima valutazione sullo stato dell'anziano valutando alcuni aspetti, il danno intellettivo, l'instabilità, immobilità, incontinenza o rischi dovuti all'assunzione di particolari farmaci. Visto che sono sintomi che vanno a colpire le persone che superano una certa età, è bene che coloro che sono più a contatto con loro, facciano caso, ad eventuali cambiamenti come difficoltà nelle interazioni sociali causa deficit cognitivi o di memoria o carattere aggressivo causato dallo stato di sofferenza o stress della persona anziana. Ipertensione. Segni di deficit cognitivi come sull'attenzione, di ragionamento o giudizio. Instabilità nella deambulazione, o difficoltà di iniziare o mantenere il passo. Retropulsione o tendenza ad andare o cadere all'indietro. Malattie cardiovascolari. Oscillazione del braccio. Stai cercando il geriatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di UMA Innovation.